Chiudiamo con gli ultimi due album che hai fatto, così li fanno un'altra volta e poi salutiamo tutti. Allora, gli ultimi due album del Novescio della Medita sono Micro Story, che lo si trova nei negozi ancora, con Roberto Tiranti alla voce, e Tribal Domestic, con Macalusa la batteria. La mia nuova band è con Nicola Costanti alla voce, con il suono nel pianoforte, poi Andrea Castelli che suona bene il basso e altra gente che ci sta, se no non arriviamo mai. Allora ci invitiamo tutti quanti a acquistare il CD del Novescio della Medaglia, Ma no, perché sono tutti quanti dei negozi musicali in Italia e insomma a seguire... Micro Story è esattamente il song, perché mo ti spiego, per entrare nuovamente nel circolo ho dovuto fare esattamente Micro Story. Cioè, sono capace a fare i pezzi cantati musicali, anche se sono suonati un pochetto meglio dal solito normale canzoni. Cioè, c'è messo pure un po' da proche, pure là, ecco. Quindi mi hanno aperto i miei manoporti dai morti e io sono rientrato e ho fatto questo e questo. Ma faccio un'altra roba. Ecco, invitiamo tutti insomma a seguire la show della medaglia perché è un grande gruppo rock italiano che ha lasciato un grande segno sia in passato e che oggi è presente e insomma in futuro ci lascerà delle sorprese. Allora, saluto da qua. Vai. Ed è tutto inutile che vi saluto perché il saluto non è sufficiente a dire l'affetto che trovo. Ok? Ciao ragazzi. Grazie, grazie a tutti qua dal Catale Elettrico. Ciao. Ciao. Grazie Enzo. Ciao.